Vuoi farti fare un preventivo? Non hai una radiografia dei tuoi denti e vuoi sapere come fare una radiografia dentale gratis? In questo video ti spiego come. È semplicissimo. Vai da un dentista, fai una visita gratuita, tutti i dentisti solitamente, soprattutto le catene dentali, sai questi franchising, ti eseguono la panoramica dentale gratis. Tira fuori il tuo telefono e scatta una foto al monitor. Questa, per esempio, è una delle tante radiografie che ricevo ogni giorno, parliamo di più di 60 radiografie al giorno, dove il paziente va, fa una visita dentale, gli viene anche rilasciato un preventivo nel suo paese, nella sua nazione, ha tirato fuori il telefono e ha scattato una foto. In un secondo, con un click, hai la radiografia nel tuo telefono e ce la puoi, a questo punto, inviare rapidamente con Whatsapp e avere da noi un'idea di spesa di quello che potresti spendere. L'altra strada è quella di farsi fare un'impegnativa dal tuo medico di base e andare invece comodamente presso uno dei centri radiografici convenzionati che eseguono la radiografia, oppure senza impegnativa del medico di base, semplicemente recandoti in un centro radiologico che esegue le radiografie digitali. Fai attenzione perché il CD-ROM ti daranno un dischetto, un disco, un CD, c'è il rischio che questo disco non lo puoi mettere da nessuna parte. Assicurati che il centro radiologico che ti esegue la radiografia ti possa dare via Whatsapp, via mail, direttamente il file digitale della radiografia, che è poi il file che inviare a noi. Se invece hai un computer dove poter inserire il dischetto, inseriscilo e fai una foto, come vedi qua a monitor, al monitor del tuo computer. Questo è quello che ci serve, non inviarci il CD-ROM fisicamente in Moldavia o alle cliniche che ho in Romania, semplicemente mandaci via Whatsapp il file della tua panoramica, così potrò dirti più o meno in che categoria di spesa puoi rientrare. Questo era il video che ti spiega un trick semplice per ottenere gratuitamente una radiografia in tempi rapidissimi. Fare una radiografia è come andare a prenotare praticamente una fototessera per quanto riguarda la difficoltà, non dico che è lo stesso esame. Semplicemente bisogna alzare il telefono, prendere appuntamento, in questo caso con un centro medico odontoiatrico che esegue la visita e allo stesso tempo andare a tirare fuori il telefono dalla tua tasca, fare una foto al monitor dove compare la radiografia. Io sono Dottor Palmas e qua dalla Moldavia ti faccio un saluto.